Ha trionfato all'ultima edizione di Amici, è la nuova stella della musica italiana, Deborah Iurato. Giovedì 4 settembre, ore 21 e 30, all'Anfiteatro Comunale di Zafferana. Deborah Iurato in concerto, pre-vendita biglietti circuito Box Office Sicilia. Settore numerato 15 euro più pre-vendita, settore libero 10 euro più pre-vendita. Organizzazione Salvatore Tolomeo Management.